Ciao a tutti ragazzi, benvenuti da Francesco Siciliani a questa nuova puntata di Noobs Corner per Mac. Se non avete mai seguito la nostra rubrica Noobs Corner sul nostro sito Slide2Mac e comunque sul nostro canale YouTube, vi anticipiamo che questo tipo di video tratta degli argomenti molto semplici, parliamo di video molto brevi, che aiutano gli utenti alle prime armi, gli utenti che magari hanno appena effettuato un passaggio da Windows o da altre piattaforme a Mac, e comunque utenti non troppo esperti che vogliono imparare determinate operazioni e determinati trucchi del sistema per migliorare la produttività e per migliorare insomma la gestione di tutto il sistema OS X. Ciao a tutti ragazzi, in questa puntata andiamo a vedere come possiamo migliorare le nostre immagini direttamente con Anteprima, il software disponibile già all'interno di OS X. Se non abbiamo tantissime pretese e se non vogliamo andare a utilizzare un altro software per il fotoritocco alla stregua di Lightroom, Photoshop, Pixelmator eccetera, potremmo anche utilizzare la base già presente in OS X. Allora scattiamo una fotografia e la apriamo all'interno di Anteprima, ora sto usando la stessa immagine dello sfondo di OS X Yosemite. Allora cliccando su regola colore dalle impostazioni dagli strumenti di Anteprima potremo andare a modificare le curve dei colori, l'esposizione, il contrasto, il punto di luce, le ombre e addirittura altre impostazioni come saturazione, temperatura del colore quindi se è un colore più caldo o un colore più freddo tendente quindi al bluastro oppure anche la modifica della tinta del colore o addirittura l'attivazione di un effetto seppia quindi possiamo andare anche a decidere di modificare un'immagine in questo modo. L'ultima opzione è quella della nitidezza che potremo sfruttare per aumentare o diminuire la risoluzione della foto, insomma la nitidezza della foto quanto è precisa nei dettagli, nei bordi eccetera. Salviamo l'immagine, adesso l'abbiamo completato, vi faccio vedere la differenza tra l'originale e quella modificata, ovviamente l'abbiamo modificata non per renderla migliore, giusto per farvi vedere quali sono le differenze e come opera, insomma Anteprima. In questo caso i colori sono molto più accesi e anche abbastanza l'immagine più ombrata. In generale non è venuta comunque neanche male, ci sarebbero stati dei parametri da regolare meglio però per fare veloce vi ho fatto vedere insomma come funziona con Anteprima. Potrete farlo con qualsiasi tipo di immagine oltre anche a sfruttare le altre funzioni di Anteprima come l'annotazione, l'inserimento del testo eccetera. Bene ragazzi con questo video abbiamo finito, io vi do appuntamento agli altri video di Noobs Corner sul Slide to Mac e anche i video di Noobs Corner per iPhone e per iPad rispettivamente sui canali di iPhone Italia e di iPad Italia, noi comunque ci rivediamo con gli altri video su tutti e tre i canali. Da Francesco Siciliani per Slide to Mac è tutto, a presto! Sociale